C'è chi simula l'ingresso in campo come se stesse per giocare una finale di coppa e nel giorno dei 30 anni del trofeo anglo-italiano griffato cremonese, l'esperienza immersiva all'Ozzini assume un significato ancora più grigio-rosso. C'è la passione per questi colori, sempre giovane nonostante i 120 anni d'età, c'è la moderna condivisione di immagini e video. C'è nell'ultimo giorno di celebrazioni allo stadio la voglia di sentirsi sempre più parte della cremonese, qualcuno cerca di immedesimarsi in ballardini che sabato qui dovrà inventarsi il modo di contrastare l'Atalanta, qualcuno immagina i campioni del passato nella Serie A di oggi, in tutto fanno oltre 6.000 visitatori in quattro giorni tra appassionati che Lozzini di solito lo frequentano dagli spalti e scolaresche a lezione di cremonese. Sicuramente è un bilancio più che positivo, noi non ci aspettavamo tutte queste persone, sono ad oggi più di 6.000 le persone che hanno visitato la mostra senza contare tutte le persone che sono venute sabato sera, quindi è veramente stato un successo incredibile di quale vogliamo ringraziare tutta la città, tutti i tifosi e tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita di questa mostra, di questi giorni di esperienza allo stadio di Cremona. Grazie 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 Grazie